Andiamo a parlare di giustizia con questa intervista al deputato del Carroccio, Nicola Molteni. Onorevole Nicola Molteni, audizione della Ministro Anna Maria Cancellieri in Commissione Giustizia, la Lega Nord, che cosa ha chiesto? Innanzitutto non siamo pienamente soddisfatti dalle parole del Ministro. Abbiamo chiesto al Ministro una netta discontinuità rispetto all'operato del Ministro Severino, del precedente Ministro, soprattutto con riferimento al tema delle carceri e al tema del riordino della geografia giudiziaria. Crediamo che in merito al riordino della geografia giudiziaria e quindi sul problema della soppressione dei tribunali vi sia una grande disparità di trattamento tra Nord e Sud, vengono salvati i tribunali del Sud e non vengono salvati i tribunali del Nord. Quindi abbiamo chiesto al Ministro una proroga di un anno proprio per rivedere questo decreto, per salvare la giustizia di prossimità e soprattutto per far sì che le valutazioni sui tribunali che devono essere chiusi vengano fatte secondo criteri di meritocrazia e di virtuosità. Al Nord vengono chiusi troppi tribunali virtuosi che funzionano ed efficienti. E poi sul tema delle carceri. Sul tema delle carceri abbiamo la netta sensazione, anzi abbiamo la conferma dalla calendarizzazione dell'attività in Commissione Giustizia che si vuole procedere con un nuovo colpo di spugna, con un nuovo indulto mascherato. Il decreto delle misure alternative della messa alla prova che era già stato votato e anticipato nella passata legislatura verrà riproposto e quindi con questo provvedimento per l'ennesima volta si dà attenzione ai detenuti e non si dà minimamente attenzione alle vittime dei reati. È un vero e proprio indulto mascherato, noi l'abbiamo definito il salva delinquenti perché si danno garanzia a chi commette reati anziché dare garanzie e tutela a chi reati li subisce.